Il frecciargento fra Siberi e Bolzano sarà confermato anche nell'orario invernale 2019-2020 di Trenitalia, a partire da domenica 15 dicembre. Sventato dunque il pericolo di soppressione del treno, dopo le recenti voci su una possibile cancellazione dello stesso nel periodo invernale, come annunciato anche sul sito di Trenitalia, il treno non è ancora visibile sui sistemi di prenotazione, semplicemente per un fenomeno temporaneo dovuto all'aggiornamento degli orari di tutte le offerte frecce per la stagione invernale. I collegamenti saranno infatti inseriti sui canali di vendita di Trenitalia da domenica 24 novembre, rendendo così possibile per i numerosi pendolari oltre regione la consultazione delle offerte presenti per organizzare i viaggi per il periodo natalizio. La buona notizia della conferma del treno ad alta velocità però mette in evidenza l'ennesima grande contraddizione. I numeri infatti raccontano che i problemi per chi si sposta nelle regioni del mezzogiorno non sono certo diminuiti. Al sud storicamente circolano meno treni, ma in questi anni sono diminuiti ancora per i tagli regionali e agli intercity. Quanto emerso dal rapporto pendolare alle Gambiende d'inizio 2019 è alquanto drammatico. Basti pensare che ogni giorno in tutto il sud circolano meno treni regionali che nella sola Lombardia. Tra Cosenza e Crotone, che distano solo 115 km, non esiste un collegamento diretto e serve quindi almeno un cambio e quasi tre ore di tragitto. Ma questo non è nulla se si pensa che addirittura tra Potenza e Matera i chilometri sono 100 e le ore quasi raddoppiano, complice il fatto che a Matera la ferrovia non è mai arrivata e quindi facendo cambio con il bus le ore di percorrenza diventano addirittura 5,5. Insomma, non sarà certo la non soppressione di un treno a far dimenticare al popolo della Sibaritide, della Calabria e del mezzogiorno intero di sentirsi cittadini di Serie B.